Paura in via Rosaiemma a Battipaglia dove una quattordicena del posto è stata aggredita da un uomo che le ha rubato lo smartphone che aveva tra le mani. Sul posto è immediato l'arrivo degli agenti della polizia di Battipaglia che hanno bloccato il ladro denunciandolo a piede libero. La ragazza invece è stata accompagnata presso l'ospedale Santa Maria della Speranza dove è stata giudicata guaribile in 15 giorni.